Ladri scatenati a Revine Lago e Soller. Nel Mirino la carrozzeria Possa Mai, il parco archeologico dell'Ivelet, la bottega di alimentari di Piazza Marconi a Lago, un'abitazione e una nota osteria di Soller. Durante uno dei furti i ladri sono stati anche inseguiti da un residente. L'uomo aveva sentito dei rumori sospetti in Piazza Marconi a Revine. Si tratta di tre giovani stranieri che sono arrivati verso le 3.30 di notte, banditi che poi sono scappati con un'auto ritrovata poi a Bologna e un furgone. I malviventi sono stati ripresi anche dalle telecamere. Al parco archeologico dell'Ivelet, a Lago, sono riusciti ad entrare dopo aver scardinato l'ingresso. Hanno rubato del denaro e attrezzature informatiche.